Dov'è la ragazza? Oh, la ragazza sta bene. Dai, parliamo. Spacchettiamolo! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hai un treno da prendere. Aiuto! 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 Non riesco a fermarlo, i freni sono andati! Spider-Man! Oh, mio Dio, è la fine! Dicca a tutti di rendersi forte! Rendersi forte! Nessun'altra idea brillante? Ne ho qualcuna, certo! No, certo! Atento! No! Stiamo rallentando! No! No! Adesso mettiamolo giù. Piano. Piano. Attenti. È ancora vivo? Sì. È solo un ragazzo. Avrà l'età di mio figlio. Non c'è problema. Abbiamo trovato una cosa. Non lo diciamo a nessuno. Siamo felici di riaverti, Spider-Man. È mio! È mio! Me pure. Con piacere. 兒. No! O! No!